Ooooooo bene... Un benevento! Nooo! C'era il benevento! Perchè? Nooo! Porca puttana! Facciamo col portiere alla fine che staviamo qui! Chi? Va bene! Belle le maglie! Belle le male, belle, belle! Benissimo! Iniziamo così bene! Oh! Ecco Dio! Sembra il cremonese salernitano! Scusa ma neanche da qui riesco a vedere chi c'è! Non gioco in questi! No eh! Niente! Non è successo niente! Shhhhh! Oh! Nessun problema per la difesa che reputa! Cazzo sono velocissimo! Se ogni tanto mi cambi il giocatore! Portiere! Portiere! E se non premi triangolo non va! E se la tira su! Nooo! Non so se sono in gioco! Sì buono buono buono! Vai 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 vai! Ovviamente! Ma cosa vuoi fare? Cazzo ero io! Oh! Vabbè ma che sei tu eh! Non sono io! Che cazzo stai facendo? Non sono neanch'io Rebè! Non so che ti dica! Non posso far nulla! Siamo vicino all'area! E credi di andare! E possono ripartire! Eh sì! Sto ferma ma non controlla! Diarrà! Perchè ma quanto cazzo sono veloci sti chi? Sti cazzo sì! Baragna metri verso l'area! Occhio a questo lancio! È gol! Non c'è male da lì! Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se ci sono altri spazi per continuare a colpire! C'è spazio per andare! Non ha lui! Prova la botta! Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata! E anch'io sarei molto arrabbiata! Ma tanto comprensibile! Al mission! Oh! Renzetti! Baragna metri! Strò! Oh! La poca mia! Pfff! E' la farata affatto che è pazze! La blu che è a solo con quello! Oh! Dio! C'è il senso che dicevi no! C'è il senso che mi sento! Bravo! E' un fallo palese, non ci sta fischiando un cazzo a sto punto Adesso si Oh i giochi di tacco della Cremonese Che tecnica che c'è qua, che tecnica Dov'è la palla? C'è difficile capire chi sono gli avversari, qui larga Angolo Grande croce Guardalo che perfetto Ah inizia a fare i giochetti, premi R2 Hop, fatto Occhio che tira Ok Nicolo Va bene Ma ti interessa, sembra che l'avevo cechinato Ma ti è la giusta lì, arbitro guarda controllo Eeeh va bene Paulinho vai Toccamo culo Ha un tempo ciascuno E' giusto Paulinho non lo togliamo neanche se è infortunato Falcialo E' un armadio Tieni a sinistra La doppio La doppio Piccolo la ruba Cosa? Cosa è successo? Cosa diamine ha chiestiato Cosa è successo? Dio cane Cos'è? E' contropiede alla crema Fermiamolo Fermate Contropiede perfetto E poi cosa c'è? Io Si ovviamente mi devi stare sempre sul cazzo Madonna mia Che cazzo ne so Era lì Non è che ci posso far niente Stavo correndo Dai muculu Muculu Dai no Ma dai L'ho far nevuta subito Più veloce di così Non potevo Che loro con i colori Iniziano a sbarare l'area Non è successo niente Ci sono metri ad in posizione Dai Col passaggio filtrante Me le fate sempre lunghe Una volta la devi far lunga Ce l'ha fatta Accentrati e poi tira Intanto ce la fai con lui No perché l'ha tracciato giusto con croce Perché non è andato Si è fermato Ha fatto così con la mano Poi non è andato Croce È arrivato a casa mia Metta Metta L'ho sentito un vento crasharsi No Perché con l'L1 Se riesce a segnare da lei Ti do un premio Porca puttana Aspetta che non è mar... No No Ai 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 Questo zingaro qua Cos'altro? Dai a mo culo C'era un difensore di merda A disposizione Posso un po' Il portiere Ripoglio a lontana I compagni si fanno vedere Eeeh Rigore oh Che cartellino giallo Dai che c'ho la La diagonale perfetta No Poi mu Mokulu C'è 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 cazzo Ve l'ho pennellata giusta T'ho detto che avevo una diagonale perfetta Guardala Tac Non l'ha toccata E' mossa da sola Ha avuto paura di Mokulu Come si si vado dentro Come vuoi tu tranquillo No Tieni il largo Largo No No Non l'ho toccato Non l'ho scherzato nulla Mi ha detto anche calma Mi ha detto anche calma L'ho scherzato nulla Nulla guarda Tocca a me Sii Intanto Faccio come Come mio fratello Dai mi butto sempre Nel stesso lato Sborone del cazzo Nel suo tempo apparo I tiro da qui No Ovviamente la tattica E mio fratello Non funziona male Ottima Eeeh Bocca di ui Tanni ma ce n'è una Ce n'è una C'è una Ti ho tirato da 45 mesi Ti ho preso Che è successo Non ho neanche premuto niente Ma dai Dio porco cos'è E si fanno cagare in attacco Piccolo No perché Ecco il tiro Di sinistro No di destro Di destro Pirete di destro No a me io mi sto sinistro S'è sventricolato Tirato di destro Ah ok Che gol Non vogliamo perdere noi Dammi quella palla Tieni centro Perché fai sempre uscire I difensori Porca puttana Che dopo devo coprire Con i terzini Ma culo Porco dio Ma è già finita la partita Non sono riuscita Porca vacca Grazie per aver seguito il video Se vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace E di condividere Inoltre se non siete ancora iscritti Vi ricordo di iscrivervi Qui sotto E noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao